Si è conclusa con successo la missione delle Marche in Cina. Oggi il governatore della regione Marche, Gian Mario Spacca, ha illustrato i risultati ottenuti dall'accordo sottoscritto con il governatore della provincia di Shandong. Un punto di contatto fisso già attivo a disposizione delle imprese marchigiane intenzionate ad avviare dei progetti commerciali nella provincia dello Shandong e il rafforzamento della collaborazione tra la nostra regione e la vasta provincia cinese, che conta più di 90 milioni di abitanti, nei settori agroalimentari, della domotica, del turismo e con un particolare riguardo in quello della cantieristica. Questi i principali risultati dell'accordo di partenariato sottoscritto dal presidente Gian Mario Spacca e il governatore della provincia dello Shandong, Jiang Daming. Dallo Shandong sono partiti investimenti sui principali gruppi industriali delle Marche, a cominciare dalla cantieristica. L'annuncio che ci ha fatto il sindaco di Qingdao dell'ordine di due navi nei nostri cantieri navali nell'arrivo di altre 12 della cantieristica privata del nostro paese sono indicazioni molto incoraggianti che danno sostegno concreto allo sviluppo dei rapporti tra l'Italia e la Cina. Dalla missione, che ha visto la presenza di 31 aziende marchigiane appartenenti ai settori più diversi legati al Made in Italy, è emerso come nel futuro dei rapporti tra le Marche e la Repubblica Sociale Cinese, più che alle esportazioni occorre puntare su attività di collaborazione strutturale di alta qualità. Da qui l'importanza del coinvolgimento delle Camere di Commercio e delle Università. La Cina sta cambiando ed è sempre più sensibile ai temi della sicurezza ambientale e alla salute dei cittadini. Occorrerà esportare conoscenze e competenze nell'impiantistica e nell'urbanistica. Abbiamo spaziato su diversi settori dal vino, dalla fiera del vino di Pechino al turismo con il pacchetto di tour operator che abbiamo incontrato. E se per favorire l'afflusso dei cinesi sono già pronti i pacchetti turistici pensati ad hoc, la regione ha colto l'occasione per presentare alla Haier, il principale produttore di elettrodomestici del mondo, l'accordo di programma dell'Antonio Merloni, nella speranza che gli incentivi previsti attirino gli investimenti del colosso cinese nel campo della domotica, favorendo la riconversione degli stabilimenti fabrianesi.